Con immensa soddisfazione facciamo i complimenti al nostro Giovanni Femminella che la prossima stagione arbiterà in Serie B Interregionale e quanto pubblicato sulla pagina Facebook del gruppo arbitri Pallacanestro Reggio Emilia. Giovanni Femminella, 28enne, originario di Sassano, è stato inserito infatti dal Comitato Italiano Arbitri come arbitro di Pallacanestro nelle liste arbitri della Serie B Interregionali. Una categoria che corrisponde al quarto livello nazionale. Giovanni, facendo parte del gruppo arbitri di basket di Reggio Emilia, il prossimo anno militerà in Romagna, in Lombardia e nelle regioni del nord-ovest. L'arbitro, originario del paese delle Orchidee, si è trasferito al nord dapprima per studio e poi per lavoro dal 2018. La sua carriera d'arbitro è iniziata nel 2009 in Regione Campania, una passione che Giovanni condivide anche con suo fratello Francesco che qualche anno fa è stato aggiunto alla lista degli arbitri designabili per la Serie C Silver, il livello regionale più alto per quanto riguarda il campionato maschile di Pallacanestro.